La newsletter settimanale dell'ufficio stampa del Consiglio regionale del Piemonte si adatta a una fruizione via smartphone e tablet. Addio al PDF e un benvenuto a notizie navigabili e condivisibili facilmente sui social network. La pubblicazione racchiude nella prima parte le informazioni su quanto è successo durante la settimana in Consiglio regionale, dall'attività istituzionale a quelle di comitati e consulte, dalle mostre alle presentazioni di libri, mentre nella seconda parte si trovano le rubriche sull'aggiornamento degli atti del Consiglio regionale e su avvenimenti, libri, cultura del Piemonte.